In casa sancataldese si avvicina il grande appuntamento di domenica prossima, 5 marzo, quando alle 15 al Valentino Mazzola arriverà il Trapani. Per la squadra di Infantino, di fronte a un avversario di Blasone, è la possibilità di riscattare la sconfitta in terra campana contro il Santa Maria Cilento. Il Trapani arriva a San Cataldo con l'intento di portare a casa l'intera posta, così da migliorare la posizione in classifica in vista dei play-off, obiettivo dichiarato dei Granata. Ci sarà certamente l'atmosfera delle grandi occasioni, con la società di casa che per l'occasione ha indetto la giornata Verda Maranto. Questo è il programma della ventisesima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Domenica 5 marzo, con calcio d'inizio alle 14.30, Castrovilla-Rilocri, Cittanovese-Vibonese, Città 10 Reale-Ragusacalcio, La Mezzia Terme-San Luca, Paternò-Mariglianese, Realla Versa-Santa Maria Cilento, alle 15 Canicattilicata, Città di Sant'Agata Catania e San Cataldese-Trapani.